Ciao a tutti i miei legionari e preparazioni non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato in questa campagna su Imperato a Roma con Roma. Come al solito prima di iniziare vi invito a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere la campagna e invito i barbarazioni non iscritti a iscriversi qualora questo video gli piacesse. Ultima cosa vi ricordo anche che ho pubblicato due racconti che trovate gratis ai link qua sotto in descrizione, che se leggeste e recensiste sarebbe davvero meraviglioso. E dette queste cose direi che possiamo partire, terminare la nostra guerra contro gli Etruschi e se possibile anche evitare la guerra civile. Tra l'altro una cosa particolarmente pericolosa è il fatto che il nostro caro Marcus Claudius Corvus è governatore della Magna Grecia e si rifiuta ad essere sostituito, il che naturalmente non è il massimo. Ora non posso fare niente per questo, quindi direi che lo lasciamo lì. Una cosa che posso fare naturalmente è cercare di evitare che anche i Fabi si uniscano nella guerra civile e come posso farlo? Migliorando l'opinione che ha chi ha di noi naturalmente. Cerchiamo innanzitutto di renderci l'amico anche perché abbiamo un bel po' di fondi e quindi dovremo essere in grado di farlo. Ora vediamo di finire la guerra qua sopra e chiediamo tutto quello che possiamo agli Etruschi. Parentesi, la Corsica gli rimarrà perché non ho intenzione di andarci. Cosa succede? Allora, Lucio Fabio Cursor è stato criticato molto, ok, e potremmo proteggerlo, come dire, facendo sparire quelli che lo criticano. Perdiamo 30 d'oro e otterremo 5 di tirannia. Cosa facciamo? Non ho mai dato un nome ai soldi su Imperator Roma. Li chiamiamo Aurei? Che dite? Sì. Ok, dai, facciamo che perdiamo 30 Aurei e ci prendiamo 5 di tirannia, anche se non è il massimo perché diminuisce la soglia per l'inizio della guerra civile ed è più facile che le corti diventino fedeli ai vari personaggi. Ok, facciamolo comunque però. Allora, c'è un evento che riguarda la conduzione delle cerimonie religiose, perché se da una parte la popolazione, i plebei, le vedono sempre una cosa, una cosa sempre più distante da loro, l'alto prete, quindi immagino il Pontefice Massimo e i suoi attendenti chiedono la distanza necessaria per fare bene il loro lavoro. Ora, possiamo dire che i preti devono essere lasciati in pace e quindi diminuiamo la felicità della religione di stato e aumentiamo il potere di Yomen e della ricerca della tecnologia religiosa, oppure facciamo una cerimonia religiosa attraverso i territori che possa rendere contento un po' tutte le parti, aumenta la lealtà di Lucius Postimius e aumenta la stabilità, oppure, diciamo, i contenuti hanno ragione aprite le porte dei templi. Non mi piace come cosa perché diminuisce per l'appunto il potere degli Yomen e anche gli investimenti, quindi facciamola via di mezzo in questo caso, anche perché la stabilità è utile ora che siamo sull'orlo di una guerra civile. Tra l'altro potremmo regalare un gladiatore a Lucius Fabius Cursor. Quanto è ricco? È abbastanza ricco, devo dire. Assolutamente. Allora, potremmo perdere cinque di popolarità e dargliene uno, oppure cinque di popolarità e aurei, oppure niente. No, ok, facciamo questo e spendiamo anche un po' di influenza politica, assolutamente. Se necessario, assolutamente. Questi vorrei evitare che sbarchino, quindi vediamo se riusciamo a intercettarli. Ci riusciamo, perfetto. Ok, gli possiamo anche fare un altro dono. Allora, una tigre, un coccodrillo del Nilo, un cammello batriano, oppure niente. Dai, facciamogli quello più costoso, una tigre, assolutamente. Anche perché chi non vorrebbe una tigre, dannazione. Uh, il ritorno degli etruschi, figa. Gli esiliati. 14.000 stanno arrivando. Li andremo a prendere, ma prima assolutamente voglio far cadere questa città e ci metto tutte le mie truppe per non rischiare attacchi a sorpresa. Ah, tra l'altro, ragazzi, non avevo rinominato le nuove legioni e anche queste per il momento le chiamerò legioni italiche perché le sto impegnando tutte nelle guerre italiane. È bello dargli il nome non solo, secondo me, per bellezza, nel senso tipo Gemina, Invicta o cose così, ma anche per il motivo per cui sono state costituite e in questo caso sono state costituite per le guerre italiche. Potevo dargli, magari a queste ultime due, alla terza e alla quarta, un nome magari che riguarda l'Etrunia. Ci penserò nei successivi video e al limite lo cambierò. Tra l'altro la serie è quasi finita e loro, a quanto pare, vanno più velocemente di noi. Questa cosa non mi piace particolarmente, ma dovremmo farcela. Allora, è morto un ricercatore dei Claudi buono perché questo fa diminuire il potere della famiglia, ma non basta a evitare la guerra civile. Allora, tecnologia dov'è? Potremmo mettere magari un Cornelio, dovrebbe essere una buona mossa, perché non c'è nessuno. Va bene, allora mettiamo un personaggio minore, assolutamente. Vediamo se riusciamo a intercettare, tra l'altro, la flotta qua che cercava di sbarcare. No, non ce la faccio, ma magari se aspetto che il loro movimento sia bloccato, li riesco a becchiare qui. Yes, no, ok, scappano. L'importante è che non arrivino a dare rinforzo e l'ideale sarebbe che anche quelli non arrivino, e niente. Ok, c'è tra l'altro il capo tribale di Veligna, che vuole diventare nostro amico. E perché no? Sono foderati, quindi sì, questo potrebbe essere assolutamente utile, anche perché ci permette di iniziare l'integrazione di Veligna. E via così. Oh oh oh, Annibale, sei tu? Dannazione, i cartaginesi sono arrivati e ci attaccano con tutta la loro forza e magnificenza. Però, a quanto pare, Roma è vittoriosa. Mi fa un po' girare le palle il fatto che sia inverdito questo, mi sono cagato addosso perché ho detto che stiamo perdendo malissimo. No, non è vero, invece stiamo vincendo molto bene. Però non sembrava. Hanno perso 4200 uomini e noi invece solo 2600. Cioè, tra virgolette, solo 2600. Ottimo, assolutamente ottimo. E dannazione, quella città cade prima di questa. Non può essere. E non ci credo. Ma davvero? Ma davvero, ma che pagliacciata. È caduta al 21% con anche la flotta qua che magari la riforniva. Mentre questa non è ancora caduta. roba da matti. Roba da matti. No, non intercettarli che vi fate massacrare come dei polli. Troppo tardi. Molto male. Dei pirati hanno saccheggiato Ostia, ma non potevo fare nulla contro questa flotta qua. E gli Etruschi hanno deciso che è giunto il momento di riattaccarci. Vediamo se riusciamo a vincere un'altra volta sulla difensiva. Sì, ce la facciamo. Ma l'assedio naturalmente verrà rallentato ancora per un po' di tempo. Ok. Assolutamente deve cadere questa città e dobbiamo riprendere anche quella qua sotto perché questo conflitto ha da finire. Il nostro manpower a poco a poco si sta logorando e se i cartaginesi tornano un'altra volta giù dalle Alpi, naturalmente le cose potrebbero essere alquanto pericolose. bravi alleati, cominciate l'assedio. È davvero una grande via da parte vostra. Oh, dopo due millenni ce l'abbiamo fatta. Meno male. Ok, mettiamoci qua dove c'è il fiume che dovrebbe aiutarci come posizione difensiva. Assolutamente se i nostri amici riscenderanno. E non penso che avanzerò, ma anzi resterò solamente qua con la flotta a supportare i nostri alleati. e cercherò naturalmente di impedire a eserciti di supporto di scendere a fare, a fare bordello diciamo. Porca di una miseria ragazzi, comunque devo dirla. Questa è proprio da migliorare. La mappa della pace fa pena. Non si capisce niente. Più che altro è davvero difficile capire cosa stai prendendo in alcuni casi. È molto molto fastidioso. Ci darebbero tuscia nella pace. A quanto pare no. Per la war balance. Perché stiamo richiedendo davvero tanta terra secondo loro. Ok. E qua non si possono rompere le alleanze. Questo è davvero un peccato. È davvero un peccato. Ma potrei farmi una ragione. Ok. Magari con la caduta di questa città riusciremo a chiedere qualcosa in più. Allora ragazzi, tra l'altro ho deciso di ampliare la terza e la quarta italica in modo da poter reggere se dovessero scendere insieme i nostri amici. Perché se scendono insieme appunto è davvero pericoloso. Ora, qua non riesco a ritirarmi. Secondo voi ce la faccio? Se rimango qua a curare il fiume? Secondo me no. Vediamo un po'. Magari gli etruschi sono abbastanza polli da rimanere indietro. Eh, non così tanto. Non così tanto purtroppo. Però siamo riusciti a sconfiggere i cartaginesi prima del loro arrivo. Eh, questo è stato davvero un capolavoro di disorganizzazione da parte dell'IA e per questo, IA, io ti ringrazio. E niente, sono arrivati altri 13.000, dannazione. Non finiscono più. Non finiscono più e tra l'altro questi qua non si ripristinano. Ci mettono davvero davvero un sacco e questa cosa mi fa uscire di testa. Allora, inizia una catena di eventi perché il nostro consule Publius Cornelius Barbatus vuole proporre una legislazione per favorire i commercianti, ma il co-console Quintus Fabius non è a favore e continua a far saltare fuori motivazioni per cui questo insieme di leggi abbastanza complesse che riguardano standard di produzione, scambi di valuta, tariffe, non vanno bene e non dovrebbero essere approvati. Allora, posso iniziare cercando di placarlo oppure dicendo ma al diavolo. Dato che non mi posso permettere che anche lui sia contro di noi in questa guerra civile, naturalmente lo placco. Così nel caso la guerra civile scoppia contro solamente i Claudi. Ah, perfetto. Tra l'altro non me ne ero accorto ma è caduta la città qua sotto e fra poco sarà caduto anche tutto il resto. Ok, quello che chiede il co-console è che parte degli investimenti siano usati anche per il mantenimento dei templi e dei festival e questo sarebbe una grande spesa e che ci dovremmo concentrare più sul commercio domestico che su quello estero. se accetto otteniamo più 12,5% di introdite dal commercio e più stabilità per 60 mesi però perdo approval dagli optimates il che non sarebbe assolutamente il massimo, perdo popolarità e lui guadagna lealtà. Oppure dico no guarda non ci sta e cerchiamo di andare avanti con il nostro piano e così facendo perdiamo 10 di influenza politica e 10 di lealtà sua, cosa che ci possiamo permettere dato che ne ha 59. Per superare il veto, il blocco di Quintus Fabius possiamo o cercare di mettere da nostra parte una fazione del Senato che al momento è neutrale ma che potrebbe essere decisiva per il voto, che ci chiede un po' di manpower e che in questo momento non è il massimo e il coconsule tra l'altro perde ulteriormente lealtà e noi perdiamo stabilità oppure corrompiamo il coconsule, gli diamo un po' di fondi per farlo contento e direi che è una buona mossa e dopo questa buona mossa io direi che possiamo firmare la pace con gli etruschi, assolutamente. Allora vogliamo questo territorio, vediamo se riesco anche a prendermi qualcos'altro, magari una provincia di Rimidi, perfetto. Dodeca Polis non me la dà, sfortunatamente, come territorio. Ruscan Valle queste sì e mi permetterebbe di separarli dai loro alleati, ok. Va bene. Cos'altro gli posso chiedere? Posso chiedere a qualcuno di diventare nostro vassallo? Beh sì potrei chiederlo agli etruschi ma non funziona. Magari posso chiedere dei singoli territori, che dite? Fatemi vedere un po'. Magari bloccare la via al mare? E niente. Ma ha preso tutta la provincia completamente a caso? No, la tuscia la voglio, la Valisarne la voglio, Arrimium lo voglio. Ok dai, questo mi sembra un buon compromesso, peccato sinceramente che non riesco a farmi dare dei soldi perché non mi dispiacerebbero per niente, ma a quanto pare non è possibile chiedergli nulla e no, non posso neanche coinvolgere i loro alleati perché non mi sono mosso per prenderli, non ho la loro capitale. Quindi semplicemente firmiamo questa pace e ce la facciamo andare bene. Sì, miseria, stavo per farla così. Ah tra l'altro potrei farla diventare stato cliente o tributario. No ragazzi, io preferisco prendere direttamente i territori perché rischieremmo di avere un vassallo alquanto pericoloso secondo me. Allora, la pace potrebbe sembrare strana ma alla fine ho scelto di prendere la Dodica Polis e il territorio qua sopra, di non prendere Arrezium e Toscia di lasciargliela. E voi direte perché? È stata una follia. No, sono andato a controllare la popolazione dei territori. Qua ce n'erano 137, qua ce n'erano poco meno di 100, tipo 94 e prendere la zona più popolosa era la mossa migliore. Ora direi che possiamo fermarci qua con questo episodio, concludiamo con la fine gloriosa di questa guerra e naturalmente aspetto qua sotto nei commenti la vostra opinione. Pensate che io abbia sbagliato? Che avrei dovuto vassallizzarli o siete d'accordo con me che in questo caso era meglio conquistarli piuttosto che rischiare di avere un vassallo troppo potente? Fatemi sapere la vostra opinione. Io naturalmente spero che lascerete qua sotto quel mi piace e che condividerete la campagna. Vi ricordo di attivare la campanella se non l'avete ancora fatto per non perdere i successivi video e di controllare la schermata della community per novità e sondaggi. Detto questo io vi saluto, a via tutti i regionari e al prossimo episodio.